Covid-19 in Sicilia, 1.567 nuovi positivi, 36 morti, 692 guariti, a Siracusa 48 casi. Nelle ultime 24 ore in Sicilia ci sono registrati 1.576 nuovi positivi, 9.537 tamponi processati. Le vittime sono state 36 nelle ultime 24 ore che portano a 2.564 decedute all'inizio della pandemia. La mappa dei contagi nelle province, Catania 396, Palermo 383, Trapani 286, Messina 222, Caltanissetta 132, Ragusa 47, Siracusa 48, Grigento 39, Enna 23. I positivi sono 37.426 con un aumento di 848 casi. Negli ospedali i ricoveri sono 1.388, 21 in più rispetto a ieri, mentre i ricoveri nel regime ordinario sono 1.198, 17 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva i ricoveri sono 190, 4 in più rispetto a ieri e i guariti sono 692. La riunione del Comitato Tecnico Scientifico Regionale per discutere della riapertura delle scuole e valutare ogni iniziativa utile anche in vista della scadenza dei provvedimenti restrittivi contenuti nell'ordinanza del Presidente della Regione Nello Musumeci in vigore fino al 7 gennaio prossimo e convocata per mercoledì 6 gennaio. Alla riunione con gli esperti prenderanno parte gli assessori regionali Roberto Lagalla e Ruggero Razza rispettivamente all'istituzione della salute. Il Consiglio dei Ministri ha rinviato l'apertura delle scuole superiori in presenza al 50% all'11 gennaio, ma questo avverrà soltanto nelle regioni che dopo il monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità previsto per venerdì 8 e l'ordinanza del Post Ministero della Salute non si trovi in zona rossa. Al momento i numeri dicono che nessuna regione si trova sotto le nuove soglie decise dal decreto legge approvato ieri in Consiglio dei Ministri in cui vengono introdotti parametri più stringenti riguardo l'indice di contagio RT. Il punto di incontro dell'11 gennaio per le scuole superiori è stato trovato in Consiglio dei Ministri dopo il confronto tra il PD che puntava al 15 e il Movimento 5 Stelle e Italia Viva che chiedevano di ripartire già il 7 gennaio. La mediazione, secondo quanto viene riferita, è stata portata avanti dal Presidente del Consiglio Conte. La decisione è arrivata dopo che gli enti locali avevano pubblicato o annunciato ordinanze che posticipavano il rientro rispetto alla data del 7. Oltre alla gradualità tra le regole previste per il rientro in classe ci saranno orari scaglionati di ingresso e uscita e a turno il sabato. Previste ore ridotte di 45-50 minuti per le scuole superiori. Il Consiglio dei Ministri dà il via libera al decreto che al 7 gennaio entrerà in vigore introducendo tra l'altro un RT più rigido per la classificazione di rischio regionale.